Siamo giovani in cerca di Europa, siamo partiti in Trenta da Torino, provenienti da diverse parti d'Italia, tutti dalla rete del WeCare e siamo venuti qui a Strasburgo per incontrare le istituzioni europee, ma per incontrare la nostra storia e oggi siamo qui, in questo campo di concentramento, nella regione dell'Alsazia, nel campo di Nazweiler Struthoff, dove si è perpetrato il nazifascismo e il massacro di tantissime persone. È qui che nasce l'Unione Europea, è qui che nascono le nostre istituzioni e noi oggi siamo voluti partire dalla memoria per concentrarci domani nell'incontro con le nostre istituzioni europee. Grazie per la visione!